Parlare di arte a Venezia è abbastanza facile, considerando che ci sono decine e decine di palatti che risalgono a due, tre, quattro secoli fa. Effettivamente è come vivere dentro a un museo. Un museo sull'acqua, per esempio. Ai più ricchi si può sempre mettere anche un bel motoscaffo davanti a casa, o anche piccolo, o anche una vecchia barca in legno che va bene lo stesso.